Fino al 3 agosto a Floriano di Campli torna la sagra del timballo terramano. Sì, ormai è una tradizione del territorio camplese, ma non solo, perché coinvolge tanti avventori da tutta la provincia di Teramo. Quindi un evento bellissimo in cui appunto si può degustare questo timballo, in cui viene un po' rivalutata la vecchia tradizione della ricetta. Quindi un evento che poi è supportato da tanti eventi culturali, musicali e anche di altra natura. Quindi noi come amministrazione l'abbiamo sopportata, quindi gli abbiamo dato il patrocinio. E quindi speriamo che quest'anno questa sagra che acquisisce un valore particolare dopo tutto quello che è successo ci sia molta gente. Oltre al timballo ci sono altre cucine culinarie che vengono fatte ogni anno, tra cui gli spiedini, salsicce, un tipo di bistecca di razza chianina e altre pietanze. Vi aspettiamo a Floriano tutte le sere dal 29 luglio al 3 agosto. Il complesso è munito di tendo e struttura, se in caso di pioggia, ogni sera ci sarà uno spettacolo diverso di musica.